Oltre le fragilità, lasciami volare. Presso l'Istituto Agrario Mondelli di Massafra, una giornata dedicata ad un tema molto delicato, la dipendenza. Non si è parlato solo di quella legata alle droghe, ma di tutte quelle forme di dipendenza che soprattutto negli ultimi anni si sono evolute. L'intento è davvero far sentire la vicinanza delle istituzioni ai ragazzi e dare loro l'idea che nelle situazioni in cui vi possono essere delle difficoltà, dei momenti in cui si ha necessità di chiedere aiuto, di chiedere chiarimenti, non deve mancare a loro la possibilità di rivolgerli alle istituzioni, ma soprattutto non deve in primis mancare a loro la possibilità di rivolgersi alla loro famiglia. Una occasione per trasmettere ai ragazzi quella fiducia nelle istituzioni necessaria, vedere nelle stesse un punto di riferimento insieme alla famiglia d'origine per affrontare le difficoltà e i disagi che soprattutto nell'età evolutiva possono presentarsi. Siamo felici di essere in una scuola, stiamo cercando di riprenderci questi contatti con i ragazzi, con le ragazze perché significa riprendersi la vita e riprendersi la vita, d'altro canto, significa anche spiegare ai ragazzi quali sono i pericoli derivanti dalle sostanze superfacenti. L'argomento di oggi è questo. Qual è il messaggio che porterà oggi a questi ragazzi? Sicuramente il messaggio è quello di confrontarsi con la famiglia e con le istituzioni perché l'Arma dei Carabinieri ha in programma già da tempo questi incontri sulla legalità per cui siamo noi ad entrare all'interno degli istituti scolastici ma chiediamo anche che siano i ragazzi a venirci a trovare in caserma. Questo per scoprire qual è il mondo dell'Arma dei Carabinieri e in che modo possiamo aiutarli. Grazie. Grazie.